eccomi qua siamo ritornati e dal 7 di giugno che mi dimenticavo di postare qualcosa non è che abbiamo perso tanto primo devo dire il motivo per cui non ho postato più niente è dovuto proprio al caldo anomalo io proprio col caldo mi sento proprio morire non c'ho più voglia di fare niente ma neanche di dire due parole ai miei amici e quindi niente adesso causa questo freschetto che è ritornato mi è venuto in mente di riprendere il microfono adesso non mi ricordo se c'è stato qualche attentato roba del genere in questo periodo qua però diciamo che le cose salienti del mese di giugno sono due l'ennesima finale che ha perso la juventus di champions league dimostrando ancora una volta se ce ne fosse bisogno che senza gli arbitri non sanno proprio dove andare loro sono abituati a giocare in 17 contro 11 in europa non glielo permettono quindi arrivano sempre lì 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 ma gli manca quel quid per andare in là è un'altra cosa fenomenale che è successa domenica quando il partito democratico è riuscito a dimostrare ancora una volta che in una battaglia seppur civile e democratica come le elezioni riesce a non vincere anche quando non ha avversari sì sì avete capito bene a trapani c'era un solo candidato per motivi troppo lunghi da spiegare comunque era rimasto solo l'unico candidato al ballottaggio quello del centro-sinistra doveva però realizzarsi due cose 51 per cento di affluenza e che almeno la metà più uno di questi votasse per lui ebbene non c'è stata affluenza sufficiente sunto partito democratico non riesce a vincere neanche contro nessuno figuriamoci come possono andare avanti a governare valdaim grazie mille